Sarà una maratona di 6 ore sabato 7 ottobre a Tenere Banco a Campobasso, un'attività amatoriale anche per conoscere la città. Sabato 7 ottobre a Campobasso, prima edizione della 6 ore di Campobasso. Guido Ponzo, che significa? È una manifestazione che fa parte del gruppo delle ultramaratone. Per ultramaratone intendiamo qualsiasi manifestazione podistica che supera i canonici 42 km a 195 metri della maratona. Nel caso specifico di questa corsa è una corsa a tempo, cioè non su una distanza e chi mette meno tempo a correre quella distanza, ma sul tempo. Cioè chi nell'arco delle 6 ore corre più chilometri, fa più chilometri. Quello sarà il vincitore o almeno il primo della categoria. Tutto si svolgerà al campo scuola di Fondana Vecchia? Esatto, sarà una manifestazione particolare, cioè non su strada come in genere avviene, ma su pista. In Italia su pista ce ne sono due. Una a San Giovanni Lupatotto, in provincia di Verona, e la seconda al Campobasso. Correranno gli atleti in quarta corsia, gireranno in quarta corsia. E questa è una caratteristica un po' particolare, cioè quella di fare queste lunghe distanze in corsia, in pista di atletica. Ecco, parlavamo di atleti, innanzitutto le iscrizioni e c'è qualche sorpresa? Allora, le iscrizioni sono finora 58 atleti per quanto riguarda la 6 ore e 14 per quanto riguarda la maratona. Dato che questa gara fa parte del Grand Prix nazionale Utah, come tappa per la classifica nazionale del Grand Prix, abbiamo fino ad ora degli atleti di buon livello, tipo Fiadone di Lanciano, Matteo Nocera di Napoli, Ciattaglia di Bergamo e stiamo attendendo la presenza, c'è la promessa, di Alberico Di Cecco da Pescara, che è stato terzo ai cambiati del mondo della 100 km. E' un parterre di tutto rispetto per quanto riguarda questo tipo di manifestazione, specialmente in pista. Sono tutti atleti che in 6 ore fanno sui 75-77 km. Poi abbiamo presenze anche un po' particolari. Abbiamo innanzitutto un folto gruppo del Club Super Marathon italiano e abbiamo Antonio Vitoancora che ha corso intorno alle 1040 maratone in tutta la sua vita e continuerà a farlo. Abbiamo Gargano Angela che sta sulle 900 maratone e tutti atleti esperti delle manifestazioni che stanno sulle 200-300 maratone oltre maratone corse nella propria carriera. La partenza è alle 12.30 al campo scuola della maratona e della 6 ore in contemporanea ed anche quella della staffetta perché abbiamo voluto mettere anche una staffetta a squadre che corrono in prima e seconda corsia proprio per abbinare questi due tipi di corse, chi fa l'ora semplice di corse e chi corre per 6 ore in pista.